. Vediamo adesso come preparare questo dolce che è tipico della tradizione natalizia. Vediamo come farla con questa ricetta tradizionale, ovviamente come sempre partendo dagli ingredienti. Ingredienti per 4 persone. 400 mm di panna L-Equida. 100 mm di latte. 85 mm di zucchero. Un baccello di vaniglia. Zucchero di canna. Una mela grana. Lingue di gatto. Preparazione creme brulee con chicchi di melagrana e lingue di gatto. Partiamo dal latte e dalla panna che dovrete mettere dentro un pentolino. A questo punto mettete il baccello di vaniglia e i semi del baccello. Portate a bollore. Mentre frate questo unite dentro una ciotola i tuorli con lo zucchero e quindi mescolate in maniera delicata, ossia avendo cura di non sbatterli eccessivamente. Una volta che il composto giungerà bollore, togliete il baccello di vaniglia e quindi versatelo a filo nella ciotola dei tuorli. Mescolate energicamente fino a che non avrete avuto un composto sufficientemente omogeneo. Creme brulee con chicchi di melagrana e lingue di gatto. Mettete in quattro cocotte in una teglia da bordo alto e riempitele con il composto che avrete ottenuto nel punto precedente. Aggiungete infine in ciascuna ciotola qualche chicco di melagrana. Fatto questo mettete dell'acqua bollente all'interno della teglia, fino a quando non avrete raggiunto un terzo dell'altezza delle cocotte. A questo punto passiamo alla fase di cottura. Dovrete cuocerete tutto in forno a 140 gradi per un tempo approssimativo di un'ora, o almeno fino a quanto non vedrete che la superficie sia dorata e compatta. A questo punto dovrete sfornare le cocotte e quindi fatele raffreddare. Successivamente riponetele in frigorifero. Passiamo quindi all'ultima fase della nostra ricetta di cucina. Quando arriverete a servire cospargete la superficie con dello zucchero di canna, come da ingredienti e utilizzate un cannello al fine di ottenere una crosticina sufficientemente croccante. Decorate a piacere con altri chicchi di melograno e lingue di gatto a piacere e servitele. Ovviamente come sempre buon appetito a tutti. Questi i dati che abbiamo riscontrato. Difficoltà media. Tempo di preparazione 30 minuti. Tempo di cottura 1 ora. Grazie a tutti.